se ne giocassimo 10 loro ne vincerebbero 9 ma non questa partita li affronteremo e riusciremo a batterli perché possiamo siamo la più grande squadra al mondo era destino che vi ritrovaste qui è il vostro momento il loro momento è passato è finito il loro momento è passato il loro momento è passato